Non aprite questa porta, troverete il cesso, questo è il cesso dal pullman, regazzoni faccia vedere, e quello è il pullman senza foto, il lavandino non funziona, e persino la carta è igienica, leggete, leggete, per tirare l'acqua del DC, affanculo, premete il pedale sotto il cesso, si prega di richiudere il cesso e ridare le chiavi.